Si completa domani il quadro della seconda giornata di Coppa Italia regionale con la disputa di 11 partite. Nel girione A, l'Isernia sarà di scena a Morcone sul campo della neopromossa formazione di promozione. I biancocelesti, dopo il successo all'esordio, andranno a calcia del bis per chiudere il discorso qualificazione. Nel raggruppamento B, l'Olimpia Ionese sarà di scena a Bairano. Entrambe sconfitte nella prima giornata cercano il pronto riscatto per tenere vive le speranze di qualificazione. Nel girone C, trasferta Cerro a Volturno per il San Pietro in Valle, che affronta il Forum e andrà alla ricerca della seconda affermazione consecutiva. Nel raggruppamento D, lo Spinete giocherà la seconda gara tra le Muramiche contro il Castel di Sangro. Per l'undici di Diamante, l'obiettivo sono i tre punti dopo il K.O. patito contro l'Auroratto Casertano. Gli abruzzesi, invece, proveranno a centrare un altro successo. Si disputeranno entrambe domani le gare del gruppo E. A ponteggio pieno per ora le due formazioni di eccellenza, Boiano e Termoli 2016, che saranno impegnate rispettivamente in trasferta contro il Baranello e il Torremaggiore. Nel primo turno sconfitte le compaggini della serie B molisana, che cercheranno di sfruttare il fattore campo per invertire la rotta. Anche per il girone F, le due gare si giocano domani. Il Busso sarà impegnato ancora al Pinto contro la Cliternina. Gli uomini di Martinelli vorranno riscattare la sconfitta maturata nei minuti di recupero contro i Ripalimosani. A proposito dei ragazzi di Bentivoglio, seconda gara in trasferta all'Acquasantiani di Trivento. Il giallo-blu di Civico, sconfitti nettamente nella prima uscita, proveranno a ben figurare davanti al pubblico amico. Nel raggruppamento G, la Turris sarà di scena al De Santis di Montenero e cercherà di archiviare il discorso qualificazione dopo l'affermazione di misura sulla Juvenes. A chiudere il quadro, i due match in programma nel girone H, Locomotive Riccia Polisportiva Fortore e Calena Campomarino. Nella prima giornata la sorpresa è arrivata ad Alpoce, dove i ragazzi di Morrone hanno superato il Campomarino, squadra di categoria superiore, grazie alla doppietta di Alessandro di Criscio. Girone molto equilibrato, dove probabilmente la qualificazione sarà decisa nell'ultimo turno del 20 settembre.